Benvenuti, sono Massimiliano della Tecnocasa. Oggi ci troviamo in via Benassi a Sant'Ilario, in un quartiere tranquillo, verde e a pochi passi dal centro. E vi mostrerò un appartamento recentemente ristrutturato con tre camere. Andiamo insieme! Eccoci qui all'interno dell'abitazione. Attraverso l'ingresso accediamo a questa grandissima zona open space, dove troviamo il soggiorno e la cucina. La zona notte è composta da tre camere da letto matrimoniali ed un bagno. Eccoci qui alla fine del nostro videotour. Vi saluto dal balcone accessibile dalla zona giorno. Vi ricordo inoltre che l'immobile è accessorato di aria condizionata. Troviamo al piano terra garage e cantina. Per qualsiasi informazione contattateci sul numero che trovate qui sotto oppure venite a trovarci in via Roma 9 a Sant'Ilario. A presto! Grazie a tutti! Grazie a tutti.